Colgo l'occasione per precisare che tutte le video recensioni fatte sui miei canali social sono recensioni non in collaborazione con le aziende, altrimenti lo avrei specificato, come è capitato altre volte quando ho ricevuto prodotti dalle aziende, e sono quindi tutti i prodotti acquistati da me. Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Stefania. In questo video ti mostro la recensione di un prodotto che ho acquistato a Lidl e sto parlando di una crema spalmabile al cioccolato. Provo a leggere il suo nome, anche se è scritto in tedesco e penso sia più impronunciabile, però ci proviamo. Lactos free, quindi fino a qua, ok. Azelnut e Cocoa Spread. Il marchio è Vemondo e per contraddistinguerlo hanno messo il simbolo del bicchiere del latte con una barretta, quindi questo lo contraddistingue proprio perché ci fa capire che non contiene latte. Il prodotto si presenta in barattolo ed è in vetro e se lo andiamo ad aprire ha il tappo di plastica e ha il classico folio in alluminio attaccato, che è il salvo a freschezza. Sulla confezione c'è scritto Preparato spalmabile alle nocciole e al cacao, senza lattosio. Lattosio, meno dello 0,1 grammo per 100 grammi. Ingredienti Zucchero Olio di colza 13% di nocciole Olio di palma 7,5% cacao magro in polvere Malto destrino Emulsionante le citine di girasole E poi aggiungono, può contenere tracce di latte e frutta al guscio. Conservare a temperatura ambiente 18-22 gradi centigradi Da consumarsi preferibilmente entro in confezione integra Vedere il coperchio E infatti sul coperchio c'è la data di scadenza. All'interno della confezione ci sono 400 grammi di prodotto. Ho acquistato questo prodotto, come dicevo, da Lidl E l'ho pagato 1 euro e 99 centesimi. Quindi la proporzione tra la quantità di prodotto e il prezzo è davvero notevole. Vi leggo i valori nutrizionali riportati sulla confezione. Ovviamente su una quantità di 100 grammi di prodotto. Energia 2339 kJ Su 561 calorie Grassi 35,5 grammi Di cui acidi grassi saturi 7,2 grammi Carboidrati 55,3 grammi Di cui zuccheri 46,7 grammi Le proteine sono 3,4 grammi E il sale meno di 0,01 grammo Io l'anticipo, sono entusiasta di questo prodotto Di questa crema smalabile al cioccolato Perché per me, come la Rigoni di Asago La nocciolata senza latte Questa mi va a sostituire la Nutella Lo devo dire perché è così Per chi come me ha un'intoleranza al latte di grado severo Sa perfettamente che non si possono assumere determinate quantità di lattosio Io finalmente sono riuscita a tollerare anche lo dmille Perché inizialmente non lo tolleravo E ora riesco appunto ad assumere lo dmille come latte quasi quotidianamente Lo alterno i periodi con ovviamente il tè Ma questo è un altro discorso Oppure lo yogurt di soia Non mi addentro oltre il discorso dell'intoleranza Perché ovviamente il tutto è molto soggettivo Non sono un medico, non posso dare consigli Nel senso, se avete un problema alimentare Se avete un'intoleranza o un'allergia alimentare È sempre consigliato rivolgersi dal proprio medico Fare le analisi necessarie E poi con il medico stabilire una dieta Un'alimentazione corretta Quindi torniamo a parlare del prodotto Quindi della crema spalmabile Per me questo è un giusto sostituto della Nutella E lo vado appunto ad alternare all'acquisto dell'arigoni Parliamoci chiaramente Il barattolo dell'arigoni Sia quello grande che quello piccolo Comunque hanno un costo Per quanto siano così biologiche Vegan ok e tutto quello che vogliamo Hanno giustamente un costo elevato di produzione Evidentemente E quindi viene venduto al pubblico Ad un costo abbastanza alto Parentesi come la Nutella del resto Non sono paragonabili a livello di ingredienti Ovviamente Quindi non sto facendo un paragone Tra questo prodotto e quello dell'arigoni L'anno scorso Quando hanno aperto qui a Bari In Lidl Ed era a febbraio Credo fosse Sì era a febbraio E ho trovato tra i vari prodotti appena arrivati Questa crema spalmabile Quando ho visto che era lactose free Ovviamente mi sono detta Ok proviamola Facendo una considerazione sul prezzo 400 grammi di prodotto A 1,99 euro Ho pensato che fosse un buon affare L'ho provato Ho fatto una prova Assaggiando una piccola quantità di prodotto Per vedere se avesse Diciamo degli effetti collaterali In me Che ho un'intoleranza Lattose o di grado severo Non ne ho avuti E così ho cominciato a mangiarne Un po' di più Spalmandola ovviamente Sulle fette biscottate O sul pane Preparando anche qualche dolcetto Con questa crema Come con la Rigoni di Asiago Quella senza latte Si possono preparare Tanti dolcetti E ovviamente li trovate Su www.stefanicleve.it La mia recensione è positiva Naturalmente Perché non ho avuto Nessun riscontro negativo Non posso assolutamente Dare giudizi negativo Perché io continuo ad acquistarla Infatti quest'anno Appena l'ho trovata E ne ho fatto una piccola scorsa E ne ho comprate due confezioni Il mio video termina qui Iscriviti al canale Se non sei ancora iscritto E spunta anche la campanella Per non perdere i prossimi video Resterai sempre aggiornato E riceverai una notifica Ogni volta che pubblico un nuovo video Per sostenermi Ricordati di lasciare un like al video Per seguirmi sui canali social Ricordati di iscrivere Chiocciola Stephanie Club Ovviamente tutte le videoricette E tutti i miei video Sono pubblicati Sul mio sito internet www.stefanicleve.it Ciao e al prossimo video Ciao e al prossimo video Ciao e al prossimo video Grazie a tutti.